Elena Lattuada, partiamo dai Vigili del Fuoco. Stamattina erano in piazza un gruppo autonomo, indipendenti, una cinquantina di lavoratori, e loro mi hanno detto che con 1200 euro al mese non ce la si fa. In più abbiamo contratti che sono scaduti nel 2009. Hanno esattamente ragione. Ed è la ragione per cui abbiamo fatto una grande manifestazione sabato l'altro a Roma di tutte le categorie della pubblica amministrazione, compreso i Vigili del Fuoco. Ce n'erano molti in quella manifestazione, proprio per rivendicare il fatto che la legge di stabilità cambi e che ci siano risorse per rinnovare i contratti pubblici, che vorrei ricordare la Corte Costituzionale ha detto che vanno rinnovati. Il Governo mette troppe e poche risorse, da cui abbiamo detto manifestazione nazionale di sabato, ma non ci fermeremo se non si troveranno le risorse nel mese di gennaio, ovviamente. L'iniziativa di mobilitazione e di lotta, quindi anche di sciopperi, di tutta la pubblica amministrazione la continueremo. Dopodiché capisco l'esasperazione anche di chi si vede salari come quelli che sono stati dichiarati, che corrispondono non solo alla verità, ma corrispondono al fatto che queste sono persone che fanno turni gravosi, che rischiano la vita, perché vorrei ricordare che ci sono molte persone, anche nella pubblica amministrazione, non ci sono solo i trave che stanno dietro le scrivanie, ma ci sono tante persone che rischiano anche la loro salute, oltre che la loro vita, come nel caso dei Vigili del Fuoco, che non possono vivere con quelle retribuzioni. Quindi la dico così, noi siamo con loro al di là delle forme che questa mattina loro hanno trovato di mobilitarsi. Sì, credo che dobbiamo ricostruire un fronte comune tra tutti nel mondo del lavoro per rivendicare una giusta retribuzione. Voltiamo pagina, parliamo un attimo di pensioni. Boeri scende in campo e dice che la generazione dei giovani di oggi andrà in pensione a 75 anni con uno scarto contributivo più o meno pari al 25% di quello che è lo stipendio odierno. Quindi dovrebbe esserci un ulteriore decremento del valore finale degli emolumenti che saranno erogati a situazione drammatica. Certamente che sì, tant'è che anche su questo il tema della previdenza e delle pensioni delle persone oggi in pensione, ma soprattutto dei giovani o comunque di coloro che diciamo hanno un sistema totalmente contributivo come quello di cui fa riferimento Boeri che avranno nel momento in cui andranno in pensione delle pensioni assolutamente non adeguate. Allora noi diciamo che il problema va posto oggi e non allora. Cioè che bisogna mettere mano alla riforma delle pensioni oggi perché le pensioni è un tipico esempio ed è una questione che non può essere risolta nel momento in cui c'è il problema, va risolta prima. Allora ci sono state tante riforme in questo Paese negli ultimi anni che hanno fatto due operazioni, che hanno allungato il periodo di vita nel lavoro per poter accedere alla pensione con un sistema che ancora oggi è comunque in grado di garantire delle pensioni un po' più eque rispetto a quelle che saranno dei giovani e invece un sistema che andrà a regime, che sarà un sistema esattamente che per garantire un minimo di vivibilità alle persone, di reddito possibile e disponibile dovranno lavorare ben oltre i 70 e appunto i 75 anni di Boeri. Allora questo è un sistema che non funziona, per questo noi diciamo che bisogna mettere mano oggi, che bisogna rivedere il sistema di calcolo delle pensioni, che va garantito un equilibrio tra quanto io verso e i periodi di lavoro e di non lavoro, perché è un altro tema che noi abbiamo oggi rispetto a quello che è stato in passato, cioè la mia generazione, la generazione che entrava al lavoro e lavorava sempre, la generazione di chi entra nel lavoro oggi o negli ultimi dieci anni è in realtà a periodi discontinui. Quei periodi discontinui determinano un allungamento della vita di lavoro anziché della vita pensionabile e determinano una riduzione significativa del valore delle pensioni. Allora trovare delle coperture anche nei periodi di non lavoro è un altro tema che noi abbiamo di fronte, cioè quindi rivedere il sistema significa ovviamente scegliere e mettere risorse sul sistema previdenziale. Questa cosa non la si fa solo riequilibrando all'interno, ricalcolando le pensioni come a volte Boeri appare dire, ma mettendo e aggiungendo risorse sul capitolo della previdenziale.